Più chiacchiere che interrogatorio. La procura fa il suo lavoro e noi siamo fiduciosi nella giustizia. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto normale. Se serve ad arrivare alla verità, ben venga. Valeria Bartolucci parla difendendo suo marito Luis da Silva, un senegalese di 35 anni. Da pochi giorni Luis è ufficialmente indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ex infermiera uccisa il 3 ottobre 2023 nei garage del condominio di Rimini. Il colpo di scena è avvenuto il 6 giugno alle 16.30, quando Valeria è stata la prima ad essere sentita in questura come testimone. Poco dopo, alle 18, è iniziato l'interrogatorio di Luis, durante il quale è stato informato dell'avviso di garanzia da parte della procura, segnando il suo status di indagato. Sono stati anche pianificati gli accertamenti irripetibili che la polizia scientifica eseguirà. Questi includono l'analisi di presunte tracce di sangue trovate nella casa di Luis e Valeria, sulla superficie interna dell'antadestra di un pensile e sulla parte superiore di un flacone di liquido lavavetri, situato nel primo cassetto dal basso di un mobile del bagno. Verrà analizzato anche un bisturi con una lama lunga circa 2 cm, già recuperato dall'appartamento dell'indagato durante i sopralluoghi effettuati dopo il delitto. Inoltre, sarà esaminato un coltello da cucina avvolto in un tovagliolo, con un manico in plastica nero e rosso e una lama liscia lunga circa 9,5 cm. Tra gli oggetti da analizzare, ci sono anche due paia di pantaloni e un paio di scarpe che Luis ha consegnato agli inquirenti. Questi dettagli sono stati inclusi nel documento che elenca tutti gli accertamenti non ripetibili, ossia quelli eseguibili una sola volta. I risultati di tutte le analisi saranno confrontati con le prove raccolte sulla scena del crimine. Nel frattempo, la difesa ha presentato ricorso ed è riuscita a ritardare gli esami scientifici. Le nuove date saranno stabilite in seguito. Luis ha lasciato gli uffici della questura verso mezzanotte senza proferire parola, accompagnato dalla moglie che non lo ha mai abbandonato. Ha fornito anche un alibi per il marito, escludendo che la sera dell'omicidio Luis sia uscito di casa. Io ero a letto, lui sul divano a guardare la tv. Se avesse aperto la porta me ne sarei accorta. Dopo otto mesi, l'iscrizione nel registro degli indagati di uno dei quattro sospettati segna una svolta nell'inchiesta, poiché verrà prelevato un campione di DNA da Luis. Questo tipo di accertamento non può essere effettuato su persone non indagate. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato proprio da Silva, vicino di casa di Pierina, a impugnare un coltello da cucina lungo 15 centimetri e a colpire la pensionata 29 volte, mentre tornava da un incontro di preghiera con i testimoni di Geova. Prima di andarsene, l'assassino le ha strappato la gonna, forse per inscenare un'aggressione sessuale. Chi ha commesso l'omicidio non solo ha agito con estrema violenza, ma ha anche voluto oltraggiare la memoria di una donna che aveva fatto della sua integrità morale una ragione di vita. Gonna e slip della povera Pierina sono già stati analizzati dagli esperti, fornendo ulteriori elementi investigativi. Il mattino seguente, Pierina è stata trovata nel suo sangue dalla nuora Manuela Bianchi insieme a Luis. Riguardo a un eventuale coinvolgimento di Manuela nel delitto, Valeria ha risposto in maniera decisa ai giornalisti, su questo non rispondo, quasi a volerla in qualche modo coinvolgere. D'altronde, senza mai accusarla direttamente di omicidio, Valeria ha più volte indicato Manuela come possibile coinvolta. La loro amicizia è cessata quando Valeria ha scoperto la relazione segreta tra Manuela e suo marito Luis. L'unico a conoscere questo segreto era Loris Bianchi, fratello di Manuela, residente a Riccione ma presente quella sera per una cena dalla sorella, nella palazzina di Via del Ciclamino, dove tutti i principali personaggi di questa vicenda erano presenti la maledetta sera del 3 ottobre. Manuela, Valeria e Luis vivono sullo stesso pianerottolo del Civico 31, accanto a Pierina. Fin dall'inizio è stato ipotizzato un movente passionale, suggerendo un legame tra l'omicidio dell'ex infermiera e la relazione segreta tra la nuora e il vicino. Pierina aveva sospettato che Manuela stesse tradendo suo figlio ed era prossima a scoprire la verità sul suo amante, forse già sospettando che fosse Luis. In quei giorni il figlio di Pierina, Giuliano, marito di Manuela, era ricoverato in ospedale per le conseguenze di un incidente in bicicletta. Il giorno successivo all'omicidio della madre, il 4 ottobre, Giuliano avrebbe dovuto essere dimesso dalla clinica. Questa data era anche cruciale per un altro motivo. Pierina aveva intenzione di portare il caso della nuora adultera davanti a una commissione dei testimoni di Geova. I membri anziani della comunità avrebbero dovuto decidere sul suo status all'interno del gruppo, del quale anche Pierina faceva parte. Secondo i principi dei testimoni di Geova, chi è colpevole di adulterio deve essere escluso, a meno che non dimostri un sincero pentimento. E proprio la sera del 3 ottobre, mentre Pierina partecipava a un incontro di preghiera, Manuela e il suo amante scambiavano messaggi via cellulare. La donna esprimeva la sua preoccupazione per gli eventi imminenti. Luis, a sua volta, temeva per la solidità del suo matrimonio. Se la loro relazione fosse venuta alla luce, Valeria avrebbe potuto lasciarlo. E' questo il muovente dell'omicidio? Tale domanda rimane senza risposta. Sarà compito degli inquirenti e, in seguito dei giudici, stabilirlo. La difesa di Manuela, dal canto suo, non accusa Luis. Secondo il consulente che assiste Manuela, l'assassino è una persona estranea al contesto familiare di Pierina, lo afferma Davide Barzan, consulente legale di Manuela. Prendiamo atto che Luis è indagato. È verosimile che la sua iscrizione nel registro degli indagati sia un atto dovuto affinché sia presente durante gli accertamenti irripetibili. Per noi l'importante è arrivare a una verità certa su questo terribile delitto. Pierina merita giustizia. Ricordo che Manuela è parte offesa in questa storia e piange ancora dopo otto mesi la morte della suocera, che le ha fatto da madre e che conosceva da 40 anni. Luis è attenzionato da molti mesi, verosimilmente per alcuni indizi che ci sarebbero nei suoi confronti, di cui però non siamo a conoscenza poiché le indagini sono secretate. A oggi non c'è stata nessuna misura cautelare nei suoi confronti. Questo mi convince del fatto che la soluzione a questo delitto sia al di fuori di quel pianerottolo. Quali sono gli indizi contro Luis e perché si desidera confrontare il suo DNA con quello trovato sulla vittima o nelle vicinanze? Ripercorriamo i fatti. Alle 22.08 del 3 ottobre, la panda di Pierina barca il cancello che porta ai garage e la donna parcheggia nel suo box. Successivamente ha aperto la porta a tagliafuoco per accedere all'ascensore, dove qualcuno l'aspettava. Una telecamera ha registrato una voce maschile che l'ha salutata, seguita poco dopo dalle urla disperate dell'anziana, sette in tutto. Il killer è fuggito. Alle 22.20, la telecamera di una farmacia ha ripreso una figura sospetta, un uomo che si allontanava rapidamente con una busta in mano. Gli esperti, analizzando i fotogrammi e ricostruendo la scena configuranti, hanno ipotizzato che l'uomo fosse di colore, alto circa un metro e ottanta, proprio come Luis. Inoltre, Luis ha mostrato fin dall'inizio un comportamento sospetto, non consegnando mai la maglietta bianca che indossava quella sera e che non è mai stata ritrovata. Inoltre, due giorni prima dell'omicidio, il primo ottobre, Luis era stato coinvolto in un incidente in moto e ricoverato in ospedale. Valeria e Manuela lo avevano visitato, ma mentre i medici lo curavano, Manuela aveva portato a casa i suoi vestiti sporchi di sangue. Su questo punto, le due donne hanno fornito versioni discordanti. Manuela ha sostenuto di aver agito di concerto con Valeria. Ma non è finita qui. Il 5 ottobre, due giorni dopo l'omicidio, Luis è arrivato in questura zoppicando, spiegando che la gamba gli faceva ancora male a causa dell'incidente in moto del primo ottobre. Il pomeriggio del 3 ottobre, però, una telecamera lo aveva ripreso mentre camminava normalmente, addirittura in modo spedito. Chiudiamo con i tre figli di Pierina. Si sono mostrati fiduciosi e, tramite la loro avvocato, Monica Lunedèi, hanno aggiunto. Prendiamo atto di questo passo avanti nelle indagini. vediamo che la linea della procura è rimasta salda e coerente. Il mistero di Rimini è a una svolta.